Ciao ragazzi, come state? Oggi andremo a realizzare questo kit che ho trovato nella kawaii box non mi ricordo sinceramente di che mese è un kit per creare dei dolcetti con la deco cream che in questo caso è rosa quindi sarà tipo fragola allora, andiamo a sdrappirlo subito ecco qua, super velocissimo allora, abbiamo mi pareva che fossero tre pirottini se ne ho perso qualcuno ah, eccolo qua, è un azzurro allora, tre pirottini due bicchieri delle pinzette un vassoio con scritto Bakery Fresh Baked per mettere appunto i nostri dolci qua poi abbiamo la punta da mettere sulla crema facciamolo subito togliamo la protezione ok, per quanto c'era la protezione sembra quasi che si stesse anche un po' appiccicando andiamo scusate, tolgo vista a parte qui che ecco, molto meglio andiamo ad avvitare la punta più o meno ma anche la punta è bloccata ma no, ma dai ce la posso fare ragazzi anche perché se la punta non è a posto io questa cosa non l'avevo neanche vista perché se gliela facevo notare a quelli della Kawaii Box loro me ne inviavano un altro più decente ma io sinceramente ragazzi non mi ricordo di che kit è questo potrebbe essere anche un kit vecchio vecchio e vabbè ho fatto quello che potevo non è proprio perfetto ok, perciò qui abbiamo poi anche delle mele dei limoni questa girandola non so che cosa sia ho dei chingui e dei cuoricini delle stelline altri cuoricini allora mentre questo credo che serva per fare tipo base vedete proviamo ragazzi quindi iniziamo mettendo la base che c'è e e e vabbè non c'è veramente non lo so ok ci vuole forse un po' di tempo per maipolarla credo perché veramente sì credo di sì allora la scaldo un po' cercando anche magari di livellarla credo che sia difficile dai non è venuto male guardate carino quindi questo così facciamo anche gli altri subito le basi così poi vado a decorare semplicemente questa parte qua ragazzi la butto via perché cioè veramente stranissima ok allora vado ad aprire anche le rondelle tolgo intanzi tutto queste mele che sono tre e già mi pare strano che siano solo tre vabbè andiamo allora facciamo prima questo insomma ragazzi ragazzi non mi sembra proprio il massimo della vita allora andiamo subito a decorarlo oh mia sono tutti bloccati uso anche le tinzette che ho qua per metterli sì vabbè non mi fanno impazzire mettiamo due fette di kiwi giusto per no bisogna di altre pinzette ecco qua ho preso altre pinzette vediamo se queste lavorano un pochino meglio ovviamente cadeva ovviamente doveva cadermi questo è il primo non mi fa impazzire sono sincera e continua a cadere sta lì buon buonino proviamo a decorare questi altri ma credo che sarà già un epic fail purtroppo non sono brava con queste cose ma perché mi cadono tutti cioè no veramente ragazzi sono proprio impeditissima no sono veramente impedita a fare queste cose cioè veramente non ce la faccio scusa vediamo se riesco a tirarlo su così ormai no che vero fuori un video allucinante ne sono più che convinta volevo fare un ultimo tentativo proprio ieri eccola qua la penna quella per tirare su le pietruzze mamma mia che tristezza ecco facciamo così che è meglio no ragazzi veramente che tristezza eppure mi piacciono tantissimo queste cose ma oh non sono non sono capace cioè poco da fare ora vediamo come riesco a distruggerla vabbè innanzitutto non riesco a tenerla in mano quindi andiamo raggiù perfetto ora mettiamoci un po' di viola oh forse ragazzi questo è il migliore che mi è venuto ma non ci aggiungerei altro cioè proprio lo lascio così basta mettiamolo nel vassoio ed è l'unico che non è caduto prendiamoci conto ok proseguiamo ok c'è che pastroccio fatto ok a sto punto metto l'ultima crema anche qua noo ragazzi sono andata con il dito sull'altro cioè aiuto sono incastrata no 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 che macello fermi tutti che poi non so neanche che cos'è questa crema aspettate che prendo un pozzo letto 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 scusate scusate voglio pulire direttamente qua perché non sa che poi dopo non va via ma non mi si è attaccata anche ma ragazzi non vedo l'ora di finire questo video perché è veramente un delirio ma proprio un delirio vero e proprio allora aggiungiamo giusto un limone volevo mettere che triste ok e su questo qua volevo mettere i kiwi e basta direi che per oggi ho combinato abbastanza malanni direi decisamente allora in conclusione devo dire ho rotto anche la matita che il kit è bello se lo sai fare ecco leggiamo subito le cose in chiaro è molto bello se lo sai fare e quanto pare io purtroppo non sono fatta mamma mia ragazzi mi è rimasto attaccato su il velo del pazzoletto wow e sono molto soddisfatta che la crema sia avanzata anche quindi ce n'è ancora un po' che butterò via perché non so come altrimenti utilizzarla e quindi sì sono veramente molto contenta per essere un kit che comunque ho ricevuto gratis ci sta tutto rispetto magari ad altri kit come quello che avevo acquistato da Aliexpress e pagato 9 euro che però per fortuna me l'hanno anche rimborsato a metà quindi insomma alla fine ho fatto 4 euro però vabbè e la crema non era avanzata qui insomma tanto di cappello quindi se uno è bravo a realizzare queste miniature può veramente fare delle opere d'arte perché sono veramente carine cioè a me piacerebbe veramente tantissimo ragazzi per riuscire a creare vediamo se non combino danni a creare queste cosine ok ce l'ho fatta però non sono capace purtroppo anche se però dai tutto sommato guardate vedendoli così da vicino tutti insieme sono anche abbastanza carini il mio preferito sicuramente è questo qui ma anche questo qua in verde l'ultimo che ho fatto mi piace tanto ma dai non sono così malvagia alla fine vi zoom un po' così li vedete più da vicino sì dai approvo approvo ok ragazzi quindi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto che comunque vi abbia tenuto un po' di compagnia e niente io vi saluto un grande bacione e mi raccomando aspetto i vostri commenti anche sul mio blog che è luna marina official blog e niente tutti i link li trovate in descrizione a presto ciao ciao ciao